Sulle colline di Chieri c'è un luogo fantastico dove, a sorpresa, non solo mia, ci sono degli ulivi, c'è una piantagione di ulivi e c'è chi produce l'olio. Da quanto tempo è che voi avete questa passione? Questa passione è innata perché io in pratica so calabrese e allora mi sono portato la mia passione anche in Piemonte. Ho iniziato in pratica a mettere sei piante, ho visto che attacchivano molto bene, allora dico se attacchiscono sei possono attacchire anche 20-30. Con gli anni a venire ne ho messi 20-30 e oggi ne abbiamo attualmente 340 piante. Ma questa passione è diventata contagiosa e i vicini hanno cominciato a fare cosa? Non solo i vicini, anche insomma tanti chieresi hanno iniziato in pratica a metterne di più, sempre di più ulivi e oggi ne abbiamo 3-4 mila piante nelle colline qui in Chieri, Baldissero e Pino Torinese. Dunque questa sarà comunque un'attività, lei mi ha detto che ha messo su un'azienda e che quindi vorrebbe un futuro per questa azienda. In concreto che cosa chiedete? Noi quello che chiediamo è che attualmente per macinare questi ulivi dobbiamo andare in Liguria. Questo è possibile oggi perché raccogliamo come quest'anno 500-600 kg di ulivi, ma dobbiamo pensare in futuro, in futuro non possiamo andare in Liguria perché ci saremo tantissime persone che avremo gli oliveti e non possiamo andare sempre in Liguria per macinare questi ulivi. Noi chiediamo che il prodotto chierese venga qui trasformato in olio a Chieri e non in Liguria. Chi è che potrebbe darle una mano e chi è che dovrebbe pensare a questo? Lei ha messo l'azienda, adesso metterà anche le olive poi? Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, abbiamo fatto bello, abbiamo dimostrato di fare qualcosa veramente di bello. Ecco, adesso noi chiediamo insomma all'autorità locale di darci l'opportunità di mettere un frantoio in un locale adatto. Ecco, e non solo per me, anche per altre persone che vogliono insomma macinare queste ulivi, in modo che qui sarà il centro dove si immaginano le olive di tutta la collina chierese. Bisogna andare incontro e il primo punto da affrontare è quello della costruzione di un frantoio. C'è di uno strumento dove si portano le olive e se ne esce con l'olio, perché questi poverini qui adesso devono portarli in Liguria. Lei capirà benissimo cosa significa partire con i carichi, andare in Liguria, il tempo che perdono, i soldi che spendono, eccetera, eccetera. Ecco, quindi vengono un po' scoraggiati. Bisogna vedere, perché poi parlando appunto col proprietario, Surace, lui mi diceva che non chiedono nemmeno soldi per costruire questo frantoio. Chiedono soltanto il permesso. Il comune dovrebbe farsi carico, anche in via eccezionale, con derova, io non so come, bisogna studiare, vedere, perché bisogna dargli una mano. È un peccato, ecco, è un peccato non ci mettere addirittura paletti contro questo sviluppo. Io lo chiamo proprio del lupo, perché qui ce ne sono 340 piante e io non so quanto olio possono dare, ma sicuramente ne danno moltissimo olio, perché io vedo come sono le olive. Sono tutte belle, piene, alberi stracolmi. Quindi il mio invito è intanto all'amministrazione locale, perché queste sono permesse che si danno qui in sede locale e comunale. E poi anche in sede regionale, per quanto riguarda me, porterò questo problema a parlare con Taricco, l'assessore all'agricoltura, e vediamo in che maniera si può affrontare, anche perché, come dicevo prima, non è solo un fenomeno isolato. So che ce n'è moltissimo in giro, il clima è cambiato sicuramente rispetto a tanti anni fa, è un tentativo. Si può vedere se in Piemonte ci si può affidare anche alla produzione dell'olio made in Piemonte, che sarebbe un'ottima cosa. Qui si chiede, oltretutto è una realtà molto più diffusa che questa singola realtà, e per cui si chiede un frantoio nel Chierese. Ci sarà questo sogno? Io direi di sì, perché è nella volontà di tutti per arrivarci. Siamo di fronte al varo, chiamiamolo così, del piano di sviluppo rurale che si concretizzerà, diciamo così, nei progetti il prossimo anno. Di questo credo si metterà certamente conto e opereremo per ottenere un risultato.